ciao a tutti oggi prepareremo quinoa e cereali con pomodorini il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono quinoa e cereali acqua pomodorini scalogno capperi basilico olio evo sale e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per tre secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio i capperi ed azionare il bimbi per quattro minuti 100 gradi anti orario velocità 1 versare nella ciotola con i pomodorini senza lavare il boccale mettere l'acqua che deve essere calda il sale posizionare il cestello con la quinoa e i cereali chiudere con il coperchio e cuocere per 15 minuti varoma velocità 2 nel frattempo amalgamare bene i pomodorini aggiungere il pepe ed il basilico a pezzetti amalgamare bene la quinoa e i cereali sono cotti versare nella ciotola con i pomodorini amalgamare bene lasciare raffreddare prima di servire quinoa e cereali con pomodorini grazie e alla prossima ricetta a 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